Ciao a tutti, bentornati sul canale di Trattoria Sportiva, qui come sempre Mario Allora, siamo qui a parlare di quello che è stato un fulmine al ciel sereno nella giornata di oggi Soprattutto per chi non era sugli spalti durante l'ultima partita, però senza cittadella, come me Che, come avrete letto nel post che ho messo su Youtube, mi trovavo a Padova, cioè mi ritrovavo a corsi e ricorsi storici Il cittadella scende a Cosenza, cittadella ricordiamo provincia di Padova, e io invece salgo a Padova E che cosa è successo? È successo che c'è stato chi ha assistito all'ultima partita di Fabio Caserta sulla panchina del Cosenza Ora, io, onesto, non mi schiererò mai dalla parte di Caserta perché sono stato uno di quelli che Quando c'è stato bisogno lo ha attaccato, va detto, quindi non mi riesco a, scusate A tirare indietro nel piangermi e dire, eh mister ci mancherà, io non riesco Però il cambiamento ci stava se portavi a Cosenza un allenatore che ti potesse dare, come dire, un minimo di equilibrio Che è di, soprattutto, passione nell'ambiente Perché la passione nell'ambiente si è spenta Ora, da me avete sentito sempre che preferisco essere quei pochi intimi e tutto Ma sta scelta di Viali, come ritorno sulla panchina del Cosenza Mi lascia un po' perplesso Semplicemente perché sei andato a riprendere un allenatore che Perché a giugno, dopo i play-out, praticamente ti ha lasciato con una conferenza stampa che diceva già tutto Era già un programma perché quando un allenatore viene in conferenza stampa senza divisa Ma ovviamente in borghese, già ti fa capire che quello era un messaggio d'addio Perché letteralmente quello di Viali ai tempi fu un messaggio d'addio verso i tifosi E sposare un progetto come quello dell'Ascoli che, pronti via, si è visto massacrare dal suo successore Dalla panchina del Cosenza, ovvero Fabio Caserta Poi, che il Cosenza di Caserta abbia avuto molti alti e molti bassi Da me l'avete sempre sentito Che è stata una... che abbiamo parlato per mesi di una squadra incostante L'abbiamo sentito L'avete sentito Che è una squadra con Canotto, con Forte Ok, che Forte in Ca Con Canotto, con Forte, con Marras e con Tutino Non può essere in quella posizione di classifica Va bene Però, però, e però Se dovevi cambiare, no? E ritornevo al punto di partenza Perché sei tornato indietro? O meglio, sei tornato indietro Ma non hai accontentato la piazza Perché la piazza sarebbe stata contenta Se a tornare fosse stato Bisoli Che poi, che poi Anche lì ci sarebbe tanto da parlare Perché Bisoli, perché Caserta aveva dato un'impostazione, diciamo, offensiva Alla squadra molto squilibrata Va anche detto questo Con Bisoli saresti passato Praticamente all'esatto posto C'è una squadra Ancorata dietro E che probabilmente non si sarebbe Sarebbe ripartita semplicemente in contropiede Perché questo va anche detto Viali con la squadra che ha avuto l'anno scorso a disposizione Letteralmente ha fatto la stessa cosa di Bisoli Perché bisogna anche dire questo Però Però Viali su alcuni li conosce Alcuni di questa cosa Sono andato a prendere Una partita a caso La prima che mi è uscita è Perugia Cosenza 0-0 Però voglio prendere quella dei play-out Per dire Formazione che il mister ha messo in campo Era un 4-1-4-1 Molto difensivo Una squadra che aveva Micai ed è rimasto Martino vabbè è infortunato Meroni Desaparesito Non si sa che fine abbia fatto Rigione Rigione Addios E Dorazio Dorazio è c'è ma Abbiamo capito che Probabilmente Frabotta è Penso insostituibile Quindi giocherà Frabotta Avanti la difesa Giocava un certo Idris Voca Che è tuttora in rosa Poi Hai Hai giocato In casa Questa qua è Cosenza-Brescia Non è Brescia-Cosenza Scusatemi Con Marras esterno E Marras c'è Brescianini non c'è Ma diciamo che Ciappracelic E che Letteralmente il giocatore Che è Ocalò Che lui Utilizzava poco Ma letteralmente lo utilizzava C'è Florenzi Che deve ritornare Ad avere un ruolo primordiale In questa squadra E al posto di Durso Potrebbe esserci La volta buona di Canotto O Punto di domanda Mazzocchi Che fine farà Passerà A tre in attacco Perché la prima punta Era Nasti Ma penso che la prima punta Quando ritornerà a Tutino Sarà a Tutino Questo è poco Ma sicuro Ora Conosce Gran parte della rosa Perché Di quelli che vi ho detto Micai Dorazio Voga Marras Florenzi Cinque Di quelli che avevano scorso C'è Calò Sei Vabbè Marson Sette Venturi Otto Pracelic Nove Cioè Comunque Sono rimasti Nove Giocatori Di quelli che lui Già conosceva Non dico che ci fai una squadra Con questi nove Ma poco ci manca Ora Questa squadra L'abbiamo Cioè io personalmente L'ho detto Andava molto a corrente alternata Non si Una squadra senza equilibrio Una squadra molto Sbilanciata L'abbiamo detto E ridetto In tutte le salse Possibili Immaginabili Ok Ok Prendo La partita col Pisa Ad esempio La squadra ha giocato Col 4-4-2 Con le due punte Va bene Ma fondamentalmente Si è trovato Con quei giocatori Ha giocato col 4-4-2 Ora Ora La squadra Secondo me Con un 4-3-3 Potrebbe giocare Magari Sbaglio io Con i 3 in mezzo Va bene Però Però Centrocampo Chi escludi Perché Ora c'ha I Prajelic Da una parte Zuccon Prajelic Zuccon Florenzi Che credo E suppongo Ritornerà ad essere Uno dei titolari Di Viali Anche se l'anno scorso Diciamo che Aldo Non ha fatto Fuoche e Fiamme Nemmeno con Viali Però Però Secondo me Tornerà ad avere Un ruolo principale Poca Che era uno dei titolarissimi L'anno scorso Secondo me In queste partite Potrebbe avere Un altro mio spazio L'intoccabile Guardando la formazione Rimarrà Marras Ma Marras Era un titolarissimo Anche con Con Mister Caserta Ripeto Io l'unica cosa Che poi Ribadisco Che la scelta Per me È sbagliata Soprattutto con La stipulazione Del contratto Perché gli hai dato Un anno e mezzo E ora Bisogna Che prendere un capitolo Anche sulla società Cioè Questa scelta Scusatemi Questa scelta Che ti fa capire Che hai sbagliato di nuovo Che hai programmato Un'altra volta male Che Caserta Era il piano B E che Viali È sempre stato il piano A Qualcuno Prima o poi Dovrà andare Di fronte alla stampa Visto che Non parla da un po' Ovviamente Non ce l'ho con Gemmi Che palesemente L'ha voluto lui Il ritorno di Viali Ma Questa È una mia opinione E anche Un'opinione diffusa In città E in provincia A sto punto La cosa che Io mi domando è Il presidente Si parlerà Con la stampa Parlerà ai tifosi Dicendo Ho il deciso io Ho scelto io Di esonerare Mister Caserta Qualcuno Si assumerà Sta patata bollente E dirà Per una fontissima Volta Ho scelto io Ho deciso io Perché qualcuno Qua ci deve Dere risposte A noi come tifosi Siamo a più o 4 Sui play out Sì Non è comunque Una situazione tranquilla Perché se oggi L'Ascoli vince Con la stampa Sono comunque Molti di meno Sottranno Trebbero tre punti Due punti Sui play out Quindi Sei lì Cioè Se Io ribadisco Che per me Cambiare Non sono mai stato Un fan di Caserta Qualcuno lo sa Perché a me Sta squadra Senza equilibrio Tutta riversata in avanti Mi ha dato più volte Fastidio Per carità Ma ora Con Viali Tu che messaggio Vuoi dare Cioè lui conosce Parte dei giocatori Ok ma che messaggio Vuoi dare Che ti sei voluto Accontentare Di un allenatore Che era libero Punto di domanda Perché Allenatori liberi Ce n'erano Potevi andare A prendere Longo Potevi andare A prendere Bisoli Potevi andare A prendere Che ne so Un altro allenatore Che Vabbè Stellone Che è stato Un altro allenatore Che secondo me Qualcuno l'ha proposto Ma è stato Scartato Velocemente Qualcuno Prima o poi Risponderà Non so se Risponderà Prima della Prima della Trasferta di Terni Ma qualcuno Prima o poi Dovrà rispondere Spero Il più presto Possibile A questo punto Perché In qualche modo Tu Questa squadra Si deve Non dico salvare Ma deve arrivare A metà classifica Perché se tu Lo esoneri Mister Caserta In questa situazione Di classifica Qui Comunque Sei in corsa Ancora Eventualmente Se vuoi sognare Ma io ormai Di sogno Non sogno più Sono molto concreto Se vuoi puntare Lì sopra O puoi fare un mercato Di mercato A classifica Per me Non ha senso Poi Che hai iniziato A vedere i fantasmi Di una retrocessione Di una squadra Un po' così Colà Ok E quindi Che si fa Abbiamo cambiato Abbiamo scelto Viali Viali Non è amato L'abbiamo già detto Viali è un allenatore Che per quello Che ha fatto Come scelta È Penso uno dei peggiori Da prendere Perché fondamentalmente È uno che ti ha Abbandonato Per andare ad Ascoli D'Agosto Io non l'avrei mai ripreso Onesto Poi Che abbia fatto Mea colpa E si sia cosparso Il capo di genere È un altro paio di maniche Questo non lo sappiamo Fin quando non parlerà La scelta La scelta Sembra essere stata Del presidente Io continuo a pensare Che la scelta Alla fine È stata Di gemmi Vediamo Potete vedere Non sono Molto in caccia Sto cambio Sto cambio di allenatore È proprio Un controsenso Perché sei tornato indietro E a me Se devi tornare indietro Io l'ho detto Lo faccio un po' Su Instagram Pensavo Che forse Era la volta Buona Che tornava a Bisoli Invece non è stato così Un'altra volta Va bene La squadra Si sostiene sempre Però Bisogna tirare fuori I cojones Che è quello Che ovviamente Sta per ricadere Dopo il derby E fortunatamente Questa volta Se ne sono resi conto Prima del previsto Perché la squadra Stava avendo La stessa ricaduta Che ha avuto Nella andata Post derby Quindi Fortunatamente Qualcuno Qualcuno Gli è Girata La lampadina Ha detto Proviamo a cambiare Poi Che non sia Una scelta Saggia Cambiare caserta Per riprendere Viali Siamo tutti quanti D'accordo Penso Poi se arriverà Qualcuno di voi Arriverà Mi commenterà E dirà No per me Viali comunque È un grande allenatore Alzo le mani Ci confrontiamo E amen Quindi potete scrivere E dire Nei commenti Tutto quello che volete Ci aggiorniamo Post partita Con la Ternana Che sarà la prima Quindi di Mister Viali Come nuovo allenatore Del Cosenza Che ha firmato Un contratto Di un anno e mezzo Pure su questo Ci sarebbe Non dovete discutere Perché come ho detto All'inizio Sei tornato indietro E quindi Vuoi progettare Ora con Viali Prima hai progettato Con Caserta Ora vuoi progettare Con Viali È una parola Che a Cosenza Non piace Mi sa La progettualità E ripadisco Qualcuno Prima o poi Dovrà parlare Dovrà dirci Che cosa intende Lui Per progettualità Fatemi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Vi ricordo Di lasciare un like Di iscriversi Qualora Di iscriversi Qualora Non l'aveste ancora fatto Vi ricordo Che in Nella descrizione Ci sono anche Due link Per rimanere aggiornati Sulle sorti Del Cosenza Caccio Slash Confrontarsi Confrontarvi Con altri tifosi Come me Del Cosenza E nulla Ci sentiamo Appunto Post partita De la Ternana Sempre Forza Lupi E Speriamo Speriamo bene Ciao a tutti